Eva, metti la mazza sul tavolo! Come vuoi! E anche tutto il tuo materiale per gli scherzi! Questo è tutto! Una fionda? Hai cinque anni? Ok, Eva, non ne ero sicuro prima, ma ora lo sono! Ti mando al campo militare! Bene, che campo sia! Spero che il campo possa gestirla! Occhiali di sicurezza? Cuffie! Sparare? Ah no! Conosco qualcosa di più divertente! Mentre tutti gli altri fanno tiro al bersaglio, Piper sta mixando il ritmo! Ehi, DJ! No? Bene! Che guastafeste! Dopo una lunga giornata di allenamento puoi dormire bene? Finché la tua sveglia non suona? No! Zitta! Centro! Ora può dormire di più! Sta suonando di nuovo? Usiamo questo metodo collaudato! Che succede? Tutte infiadi! Subito! Tieni duro, Piper! Abbiamo finito il percorso a ostacoli! Manca solo la recensione di metallo! Oh no! Ha rotto un'unghia! Posso sfondarlo facilmente! Oh no! Ah, giusto! Dimenticavo! Fatto! Questa lima per unghie è così utile! Come ha fatto? Voglio provare anch'io! Bel tentativo! Ma niente da fare! Capito! Dove sono le mie forbici? Impariamo a usare il binocolo! Eva! Vedi il bersaglio? Ora Piper! Lo vedi? Ora Tommy! Wow! Bella vista! Oh! Sorgente! Ok, corro! Torna alla sorveglianza! Controllo della stanza! Hmm... È pulita! Carta! Questo è un oltraggio! Fai le flessioni! Uno! Due! Wow! Puliamo prima che faccia fare le flessioni anche a noi! Il primo che ha finito è... Un fattorino? Cos'hai portato? Ecco qui! Proprio quello che hai ordinato! Eva! Vuol dire che sono la prima? Sì! Sono impressionata dalla tua creatività! Ehi voi! Forza! Corrono più forte che possono! Questa borsa è tutto ciò che hai! Facciamo a cambio! Se vuoi! Ecco! Piper arriva seconda! E Tommy è ultimo! È così pesante! Ce l'ho fatta? No! La doccia è libera! Finalmente! Ma qual è lo shampoo? Blu o rosso? Quale? È così difficile! Correrò il rischio! Rosso! Cosa? Questo anello è il vostro obiettivo! Studiatelo! Ora cercate! Seriamente? Devo scansionare ogni centimetro! Vedo qualcosa che brilla! Trovato! Bello! Grazie! Il mio anello! È l'ora dell'appello mattutino! E Piper ha dormito troppo! Dov'è la tua uniforme? Sbrigati! Mi mimetizzerò! Sta arrivando! Sveglia! Eva! Bel lavoro! Tommy! Eccellente! Piper! Non hai dormito abbastanza? Svegliati subito! Questo è l'esercito! Non urlare! Non sono sorda! Ops! Cos'è appena successo? Cosa c'è di più facile che vincere il tiro alla fune? Vai Piper! È più difficile! Eva vuole aiutare! Ma che sta succedendo? Le ragazze lavorano insieme! Non riesco a muovermi! Cosa? Un albero? Non esiste! È fondamentale imparare a pulire la propria arma! Ed Eva ha trovato il suo metodo! Si è fatta le ciglia e ha portato a termine il suo compito! Brava! Perché non le è piaciuta la mia strategia? Ce l'hai fatta! E hai superato il test! Più veloce Piper! Sei in ritardo di due secondi! È colpa delle mie scarpe! Wow! Sei passata! Lo sapevo! Che giornata! Che succede? Allarme rosso! Scappiamo! L'allarme è scattato qui! Ma dov'è il problema? Eccolo! Ehi! Quello è il mio calzino! L'ho indossato solo due volte! Falso allarme! Lavorate di testa, non di forza! Come posso ravvivare la situazione? Ora è più divertente! Cos'è quello? Un telefono? Com'è il gioco, Tommy? Tommy è nei guai! Dammi il telefono! Dai! Forza! Hai altre granate? Ehi! Schiena dritta! Non ce la faccio più! Oggi faremo pratica di tiro al bersaglio! Questi sono i vostri bersagli! E le vostre pistole ad acqua! Colpite il bersaglio! Basta così! Consegnate le armi! Ottimo lavoro! La macchia è venuta via! Sembrare minacciosi è metà della battaglia! Ma non dimenticare la cura della pelle! È una maschera per il viso! È lucido da scarpe! Perché non l'ha detto subito? Tocca a te! Amavo queste scarpe! Questa è una granata! Impariamo a usarla! Piper! Lanciala! L'ho colpita! Ora corro verso la casa base! Mi ha visto colpirla! La granata? Stai giù! Tommy, sei pronto? Rasi pure, ma attenzione! Certo! Cominciamo! Addio capelli! Fatto! Oh, grazie! Eva, vuoi un taglio di capelli? No, voglio questo stile! Oh, ti sta bene! Ecco fatto! Pronta! Il prossimo! Ti piacciono le mie trecce? Stai benissimo! Ma non sapevo di poter scegliere il taglio! Ci eserciteremo a sparare! Studenti, mettete i paraorecchie! Ah, i paraorecchie normali sono così fuori moda! Userò gli airpods! Pronti? Puntare! Fuoco! Carica! Fuoco! Pronto! Il mio obiettivo è il più bello, capitano! Le sto dando il mio cuore! Shbin, cos'è quello? Tiri romantici? Capitano, ti amo! Studenti, devo uscire! Il mio cane vi controllerà! Vi guarda come un falco! Un piccolo cane! Quello è la guardia arrabbiata? Facile! Eva, guarda come sono figo! Copierò direttamente dal libro! Guarda, è già lì! Ok, ok, ho capito! Non ti prenderò più in giro! Ok, sono tornato! Di già? Ti è piaciuto? Sì! Posso prenderlo in prestito! Ora tocca a te andare nell'esercito! Buona fortuna! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Scrivi qui sotto chi è il tuo personaggio preferito! E metti un like al video! Iscriviti al canale! E clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom!